Salve a tutti ragazzuoli e oggi sono qua con la top 10 del carissimo Ciccio Formaggio che non si fa sentire tanto ma è uno dei miei primi sostenitori da quando ho riaperto il canale che non erano manco 30 persone, era l'unico che mi commentava i video e io continuo, anzi mi faceva piacere, c'era qualcuno dall'altra parte che mi guardava, quindi Ciccio ti ringrazio perché anche quel commento dell'unica persona che c'era che guardava i video e mi commentava mi spingeva ad andare avanti e vedere un po' se la cosa partiva o meno e c'erano nuove persone che iniziassero a seguire il canale, quindi già partiamo da questo che ti ringrazio alla fine la tua lista l'ho trovata, perché poi gli ho scritto a Ciccio in commento e ho detto mandami di nuovo la lista, l'ho trovata allora, la classifica sono a caso, quindi non è del più importante al meno importante partiamo da Eden Lake un film che è un po' revenge movie, un po' che vorrebbe fare il verso a Spit on Grave ma cambia completamente le carte in tavola abbiamo Michael Fassbender, film del 2009, ma noi è arrivato nel 2015, se non mi sbaglio non mi ricordo chi lo ha portato, me lo sono visto anche in un periodo che non era tanto bello per me, mi ero operato, ero tornato da poco all'ospedale e mi sono visto Sto Eden Lake e mi sono sentito ancora più depresso però, detto a me, è meglio essere operato che subire quello che subisce il nostro Michael Fassbender all'interno del film che la sua moglie assiste a tutto e infatti viene anche lei cacciata da queste persone che non vi dico chi sono e si seguiranno scene di violenza anche per vendicargli un marito quindi è un po' diverso, no? non è la donna che subisce c'è l'uomo che aiuta invece qua cambiano completamente le cose un bel revenge movie che vi consiglio sicuramente di vedere io mi pare l'ho visto noleggiato non ce l'ho neanche, penso, neanche nella mia collezione cosa me l'ho detto? Nell'Esta Desi Day io non mi ricordo bene bene il film quindi se mai volete una recensione e vi fa piacere regalarvelo ve lo lascio qua sotto Dead Silence film del nostro caro il tizio di Soul and Zeus James Wan film meno, diciamo, riuscito per allora per me è bel film meno riuscito nel senso come è successo al cinema e anche in un video molto passato inosservato solo sono visti quattro mosche film che tutto gira sui burattini e scene molto che mi hanno mi hanno disturbato perché ho visto nel 2007 ero molto più piccolo quindi avevo quei 14 anni e scarsi quindi mi ha un po' lasciato disturbato avevo 13 anni di certe scene molto bello e tanta gente parla di Teconce Teconce Inzitus avete rotto il cazzo guardate Dead Silence non se ne parla più torniamo di nuovo con James Wan col primo e unico diretto da James Wan perché siamo arrivati a 9 e poi non ha girato più un cazzo ha scritto in alcuni altri film di 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 che si concentrano a fare altro grande film un film che per tanti sono soltanto dei film dove ci sono quattro scemi che devono fare degli enigmi e schiattano se non riescono a farli per me è un film interessante anche innovativo che ha cambiato anche questo il genere horror alcuni potrebbero essere contrarie alcuni no ma a me ragazzi è un film che vale davvero la pena di vedere almeno il primo show non aprite quella porta penso che il caro ciccio si riferisca al primo film di Tom Booper tutti me l'avete messo e ragazzi io sono molto d'accordo con voi film rivisto e rivisto un sacco di volte bellissimo e anche con un personaggio che rimarrà per sempre impresso sono elementi di chi ha visto non aprite quella porta e anche chi non l'ha visto My Leatherface tutti sanno chi è anche chi non ha visto il film molto disturbante scene veramente raccapriccianti e con una bellissima fotografia che contorna diciamo tutto il film belle interpretazioni e passiamo all'altro cult ovvero le colline a noi occhi penso del nostro Wes Craven film che ho visto da piccolo ero 8-9 anni visto su rete 4 era notte l'ho visto a metà di questi questi qua deformi che volevano ammazzare questa famiglia che erano questa roulotte che si erano bucate le loro le avevano bucate proprio loro film anche questo che ha smosso le cose e che fino ad ancora oggi copiano da questo le colline a noi occhi prendete una delle saghe più lunghe longevi è stato Wurong Tarn che ora è uscito il remake di Wurong Tarn 1 chissà forse un giorno mi porterò tutta la saga di Wurong Tarn staremo a vedere sono 7-6 non mi ricordo bel film anche questo accetto film che davvero pochi hanno visto e pochi conoscono film abbastanza vecchiotto 2005-2006 con sto dizio che si va a divertire a squartare la gente con l'accetta un po' ricorda un po' venerdì 13 ci sono molte scene di sesso molto nudo molto violento anche so che ci sono stati dei seguti di Hatchet ma non sono stati mai portati in Italia non li ho mai visti l'ho apprezzato molto mi è piaciuto un film molto violento come vi ho detto ricorda molto venerdì 13 altro filmone La Horde anche questo cazzo ciccio eh qua mi metti qua film che nessuno ha parlato bravo bravo La Horde film mi sembra spagnolo francese secondo me uno dei migliori film di zombie dal 2000 al 2010 con orde di zombie incredibili con personaggi che ti rimangono nella mente non te li dimentichi la drama non me la ricordo chissà che è so sincero casomai un giorno me lo faccio pressare da salvuccio La Horde aspettate ragazzi scusatemi ragazzi ma il bambino doveva mangiare allora ritornando alla top del nostro caro ciccio casomai La Horde mi vi ho detto poi se ve lo porterò io me lo faccio pressare dal caro salvuccio e io lo faccio della allora rigiagate vedendo un bel film di zombie a te ti piacciono i zombie? si e poi solo ti piacerà poi torso i corpi presentano tracce sarà un film anni 70 giallo penso che già quando ci mettono questi titoli strani non per qualcosa te ciccio negli anni 70 80 chi lo sa come me ci mettono titoli a cazzo di cane completamente che non c'entrano un cazzo neanche col film non l'ho visto qua sono veramente col punto di neore uno degli unici film che non so cos'è poi e tu vivrai nel terrore e qua io ciccio mi hai fatto sborrare te lo devo dire proprio detto proprio lo so che ora perdo l'altro 2-3% di tonne perché dà fastidio che io sono è certo che dà fastidio facciamo 100% uomini ma il bambino non capisce filmone capolavoro per me di Lucio Furci film visto strarivisto centinaia di volte con atmosfere che pochi film te la danno il disturbo che ti dà in quelle scene quelle musiche le musiche di Fabio Frizzi è un film fantastico io forse lo rivedrò e ne parlerò anche le giocate che l'ha visto se lo rivede e si sta zitta allora non è con piacere no tu te lo sei visto te lo rivedi dall'aldilà e tu vivrai nel terrore tu vuoi vivere nel terrore no nel terrore non voglio vivere però me lo rivedo filmone porca puttana te lo danno andare a vedere anziché vedere le cazzate che escono questo è un film questi sono i film ragazzi senza offese per le altre top che mi avete mandato però ragazzi se tu mi metti Lucio Fucci io vengo a limonarti in casa quindi bravo bravo ciccio io andrei nell'altro film ovvero reazione a catena quello che ha può essere dato il via agli slasher film del caro Mario Bava che Mario Bava sapete che è un maestro indiscusso nel senso che ha creato generi dal nulla cioè ha creato storie dal nulla e poi è stato copiato e poi anche dimenticato anche questa è una cosa un po' brutta soprattutto in Italia non se ne parlavano di Mamaiti da Mario Bava filmone anche che ha dato il via anche alla saga di Venerdì 13 anche prendete le uccisioni di quei due mentre scopano vengono imparati con il palo di ferro e stessa scena uguale soltanto che qua la trama è un po' diversa cioè non c'è un Jason con una maschera non c'è la mamma di Jason ma abbiamo altri assassini che non vi aspetterete mai e che ai tempi fece discutere ho saputo fece parlare di se il film c'ha tutti gli escalation di un Venerdì 13 ovvero se ti spogli muori se scopi muori e se bevi muori le leggi proprio già le aveva messi il caro Mario Bauer tu non bevi? io penso che non moriamo mai perché c'è lui quindi non facciamo niente ma pure io se fossi stata singola io non sarei morta perché io non faccio né la zoccola né son maschio e ti spogli però ma per lavarmi? no no lì anche no anche per lavarti tu muori ma aspetta però pensa nel film quando uno si lava perché pure dopo aver fatto qualcosa no no ma anche lì c'era una che si fa il bagno lei nuda e muore aspetta ma non c'è nessuno aspetta ma dove se lo faccio il bagno? in questo lago e secondo te io con i miei principi da farmi il bagno nudo nel lago ma poi se la si apri ma ma stati zitto a zoccola non facciamo violenza su youtube non facciamo una vedere io comunque mi sarei salvata poi sta su Holyfans si sono su Holyfans certo se la volete su Holyfans mi raccomando scrivete qua sotto nei commenti che cercherò di metterci d'accordo così mettiamo gli abbonamenti ma che fai? mi vendi? mi vendi ma non ti vergogni ah si scherza a parte scherzi vi lasciamo in descrizione Holyfans di Katia vergogna ragazzi io vi ringrazio almeno vi fate gli occhi con queste due minnone naturali niente ragazzi io come sempre vi ringrazio per le top che mi hai mandato grazie ciccio per avermi mandato la top e grazie anche su supportami sempre e se anche voi può essere mi siete vergognati dice no non mi sono sentito mandatemela la top che ne parlerò non subito ma ne parlerò perché sono veramente impegnato e un'altra cosa se volete sostenere il canale e volete porto più video più recensioni che io in questo momento porto quello che c'è Netflix quello che diciamo viene salvo portate i miei film se quindi non ho possibilità per varie spese quando io non comprare i miei film però se vi fa piacere dirai un film da recensire qua sotto vi lascio la lista di sedere così farete parte anche voi come la regia Katia e il caro Vero Vero che mi ha regalato dei film anche voi mi ha regalato dei film e io vi porto le recensioni con ringraziamenti quindi ringrazio alla mia cara compagna che mi ha regalato dei film e ringrazio ancora qua e ringrazio anche Vero Vero e grazie anche a te Ciccio Ciccio ora che lavori mandami i film eh forza eh dai io come sempre ragazzi io scherzo però Ciccio fatti scherzi se vuoi mandami qua sotto c'è anche un tv da 1400 euro della Sony se lo vuoi prendere anche quello aggiungi aggiungi alla prossima ragazzuoli